santo 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 e il signore degli eserciti tutta la terra è piena della sua gloria care sorelle e cari fratelli che siete in ascolto sulle frequenze di radio bequit evangelica o sulla pagina youtube e facebook della radio benvenuti e benvenute al culto evangelico la domenica dopo pentecoste è chiamata domenica della trinità perché la chiesa confessa la propria fede nel dio uno e trino vogliamo presentarci insieme al signore il nostro aiuto la nostra gioia e la nostra speranza sono in dio che ci ha creati e ci ama come una madre e un padre in gesù suo figlio e il nostro signore che ha dato la sua vita per noi nello spirito santo che ci chiama a vita nuova e soffia sull'intero creato amen leggiamo ora il salmo 29 data al signore o figli di dio data al signore gloria e forza data al signore la gloria dovuta al suo nome adorate il signore con santa magnificenza la voce del signore e sulle acque il dio di gloria tuona il signore e sulle grandi acque la voce del signore è potente la voce del signore è piena di maestà la voce del signore rompe i cedri il signore spezza i cedri del libano fa saltellare i monti come vitelli il libano e lermon come giovani bufali la voce del signore fa sguizzare i fulmini la voce del signore fa tremare il deserto il signore fa tremare il deserto di cades la voce del signore fa partorire le cerve e sfronda le selve e nel suo tempio tutto esclama gloria il signore sedeva sovrano sul diluvio anzi siedere per sempre il signore darà forza al suo popolo il signore benedirà il suo popolo dandogli pace preghiamo dio eterno e onnipotente oggi noi ti celebriamo perché nella tua bontà ci hai creati ci hai fatti eredi della tua promessa di vita tu hai mandato nel mondo la tua parola fatta carne in gesù cristo egli ci ha liberati dalla schiavitù del peccato rendendoci tuoi figli e tuoi figli mediante la morte in croce e la resurrezione hai effuso il tuo spirito per adunarne la chiesa e far conoscere la tua grazia a tutti gli uomini e le donne ed ora ci mandi nel mondo perché possiamo essere testimoni del tuo amore verso tutte le creature fa splendere il tuo volto su di noi perché possiamo sperimentare pienamente il tuo amore che ci ha dato la vita la grazia che ci ha liberati dal male la tua forza che ci rialza e ci conduce lungo il cammino donandoci la libertà di lodarti e celebrarti adesso e nel corso della nostra vita tu che sei unico e tre volte santo amen santo amore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che è nascato di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola. Cari sorelle e cari fratelli, in questa prima domenica dopo la Pentecoste, il racconto del Vangelo di Giovanni, che parla dell'incontro tra Gesù e Nicodemo, e del bisogno di una nuova nascita, ci ricorda ancora il dono dello Spirito Santo su tutti i credenti e le credenti. Un dono che rappresenta l'annuncio della nuova vita in Cristo, che ci è stata promessa, che ci fa crescere e ci fortifica nella fede, e che ci sostiene nel nostro servizio verso il prossimo. Chiediamoci innanzitutto cosa vuol dire che bisogna nascere di nuovo. Questa è infatti anche la domanda di Nicodemo. Tutto l'amore e la pazienza della gravidanza, lo sforzo e il dolore del parto, non bastano infatti per dare vita ad un figlio o una figlia di Dio? A sentire Gesù sembra proprio di no, ma in che senso? In realtà Dio ci ama così come siamo e prova gioia nel vedere nascere un essere umano, nel vederlo crescere e vivere la sua vita. Le storie dell'Antico Testamento ci testimoniano che la nascita dei figli è una benedizione, ed è beato chi ne ha la faretra piena. Ma la novità sta nello sguardo benevolo di Dio che cambia le cose, e in virtù di quello sguardo benevolo che Egli ha adottato come Suoi figli e figlie tutti noi, e allo stesso tempo ci ha donato Suo Figlio Gesù per liberarci dal peccato e dalla morte. La nuova nascita, allora, non è altro che la consapevolezza che noi Gli apparteniamo e che siamo sotto il Suo sguardo benevolo e benefico. Bisogna nascere di nuovo vuol dire riconoscere la potenza di Dio nella nostra vita e nella storia dell'umanità. Ma come si fa a riconoscere la presenza di Dio quando il tempo in cui viviamo è pieno di incertezze e di paure? Che il nostro sia un tempo difficile è sotto gli occhi di tutti. La pandemia, certo, ha investito il mondo intero con la sua lunga scia di morti, ma ci sono molte altre cose che succedono attorno a noi. La foto della bimba morta in mare e spiaggiata in Libia è come un pugno nello stomaco che ci mette davanti alla faccia tutta la disumanità che sta dietro le tante vittime delle migrazioni. E ancora ti svegli una mattina e trovi la notizia di una tragedia come quella della funivia precipitata o di un ennesimo caso di violenza sulle donne. Di fronte a tutto questo servirebbe proprio ricominciare tutto da capo, ricostruire una nuova società, una nuova economia, una nuova maschilità. Sappiamo quanta fatica ci vuole a ricominciare, soprattutto quando si è caduto molto in basso. Una possibilità di rinascita, però, noi la riceviamo gratuitamente ed è la possibilità di nascere nella speranza. Quando si sperimenta la speranza, anche in un contesto di sofferenza e di dolore, si ha la sensazione di rinascere e di ritrovare la gioia. Pensiamo all'esperienza degli schiavi neri in America e alla loro speranza espressa nei canti spiritual. Qual è dunque questa speranza? Il sapere che comunque, in ogni circostanza, Dio ci guarda benevolmente ed il suo sguardo è una garanzia che il male è stato vinto, che il peccato umano è stato giudicato. Una speranza che è anche uno stare accanto con chi soffre, un parteggiare con chi lavora e per la pace, un lottare insieme a chi rivendica giustizia, un costruire fianco a fianco un mondo nuovo. Siamo chiamati a predicare questa speranza, sorelle e fratelli, ai migranti così come alle vittime di violenza e discriminazione e anche a tutti e tutte coloro che credono nella legalità e nella giustizia e si impegnano per esse. Ma come si fa a nascere di nuovo? Come si fa a recuperare questa speranza e questa fede in Dio? Innanzitutto, a partire dal battesimo. Gesù dice a Nicodemo proprio questo, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il battesimo è un gesto gratuito che annuncia gratuità, ovvero la buona notizia dell'amore di Dio. Ci dice che non viviamo più per noi stessi, che sarebbe davvero una misera cosa, ma viviamo per il Signore, perché in Lui scopriamo di essere quelle creature che Dio ama, così come un figlio o una figlia è amata dai Suoi genitori. Il gesto del battesimo è anche l'incorporazione nella Chiesa, che è appunto corpo di Cristo. Vale a dire che attorno a noi c'è una comunità di sorelle e fratelli che ci incoraggia, una rete di relazioni che ci sostiene, un coro polifonico che ci annuncia la speranza. Non siamo soli, ma siamo collegati gli uni agli altri e alle altre in un vincolo d'amore che ci protegge e ci sprona, così come per un figlio o una figlia, e ricevere l'abbraccio dei propri genitori. Quel battesimo che abbiamo ricevuto da piccoli o da grandi con acqua non sarebbe però così efficace se non ci fosse l'azione potente dello Spirito Santo. Gesù parla di una nascita dallo Spirito, come di una creazione ex novo, di una risurrezione. Il soffio dello Spirito che aveva creato Adamo ed Eva, che era disceso su Gesù al momento del concepimento e poi del suo battesimo, e che infine era stato sparso sui discepoli il giorno della Pentecoste, agisce imprevedibilmente anche nelle nostre vite. Le scompiglia, le accompagna, le sostiene e le spinge. È lo Spirito che ci parla di Cristo, che ci fa rinascere alla speranza, che suscita quel cambiamento che ci permette di vivere in maniera fruttuosa il nostro tempo, come un'occasione di servizio del prossimo e di lode a Dio. È per lo Spirito, se possiamo intercedere in preghiera agli uni per gli altri, se possiamo raccogliere le nostre offerte di solidarietà verso i miseri, se possiamo predicare la libertà e la giustizia di Dio nel mondo. Abbiamo bisogno di invocarlo giorno per giorno, come la manna ai tempi dell'Esodo. E se possiamo nascere dallo Spirito, possiamo anche crescere nello Spirito e vivere nello Spirito. Egli svolge, cioè, un'azione che potremmo definire di istruzione e di educazione. Ci istruisce su Gesù, ci permette di riconoscerlo nelle scritture come il risorto, il vivente, e ci educa alla fede, così come ci aiuta nella preghiera e ci ispira nella lode al Signore. Un famoso canto della scuola domenicale dice «Se lo Spirito di Dio si muove in me, io danzo, canto, lodo, prego, come David». Lo Spirito di Dio ci permette di danzare, di cantare, pregare e tanto altro ancora. E una volta cresciuti, ci rende capaci di testimoniare a nostra volta questa nuova vita. Siamo noi, infatti, coloro che Gesù chiama per battezzare tutte le genti e per istruirle sulle cose da Lui comandate. Siamo noi, quel popolo, chiamato ad insegnare la legge di Dio ai propri figli e figlie senza stancarsi di generazione in generazione. Siamo noi, la Chiesa, che vive la propria vocazione nell'accoglienza, nel perdono e nella riconciliazione. Se ci lasceremo accarezzare dallo Spirito, se useremo la sua audacia e la sua forza, se lo lasceremo parlare con le sue lingue di fuoco, sentiremo allora la presenza di Cristo risorto accanto a noi e vedremo crescere attorno a noi una comunità di donne e uomini nati di nuovo da acqua e spirito. Amén. Siamo noi, la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa e la Chiesa Siamo noi, la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa stiamo cantando, stiamo cantando, stiamo cantando, stiamo cantando in a Bossia d'Agn… We are singing, we are singing, we are singing in the light of God. His singing, we are singing, we are singing in the light of God. il Cristo e hai sparso abbondantemente il tuo spirito su di noi perché rivestiti di potenza potessimo annunciare la tua buona notizia a tutte le tue creature. Rendici dunque testimoni del tuo amore verso tutti e tutte coloro che soffrono nel mondo a causa delle ingiustizie e della malvagità umana perché da te possano ricevere soccorso. Consola tutte le persone coinvolte nel drammatico incidente della funivia Stresa-Mottarone che è costato la vita a 14 passeggeri e proteggi il piccolo Eitan in questo momento per lui delicato. Intervieni per fermare la strage del Mediterraneo dove migliaia di vite umane in viaggio per la speranza perdono la vita e riemergono sulle spiagge come segno di un giudizio su di noi. Apri i nostri confini e rendici accoglienti e solidali verso chi ha perso tutto e vorrebbe ricostruire la propria vita altrove. Veglia sulle nostre autorità e suscita in loro pensieri di giustizia e di pace perché agiscano secondo la tua volontà. Proteggi ogni villaggio, ogni città, ogni nazione. Insegnaci ad amarci gli uni gli altri e a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace così da poter pregustare già adesso la gioia del tuo regno. Te lo domandiamo nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Padre di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Padre di Gesù Cristo, tuo Signore, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. e dal cuore non sia fatta la Tua volontà. Anche terra come fatta nel cielo, Nacce oggi il nostro canto viviano e i vertici nostri veri come anche noi li abbiamo dimessi ai nostri debiti. E non ci espone alla tentazione ma liberaci dal maligno poiché a te appartencono il regno la potenza e la gloria i semplici del mondo riceviamo la benedizione del Signore Fratelli e sorelle, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, ora e sempre. l'amore di Dio e la comunione di Dio e la comunione di Dio Ementi e la comunione di Dio Ementi Grazie a tutti.